Come vi ricorderete, le macchine elettriche devono emettere un segnale acustico di sicurezza. Ascoltiamo alcuni esempi. Monotono, no? Ma, mi direte, l'A500 qualcosa di più lo deve avere. Allora, eccolo. Ma l'avete sentito? È l'unico bottore che canta. È come sul vostro telefono, no? La melodia si può cambiare, scaricare, personalizzare. Perché questa non è la voce di un computer, no. È la voce della creatività italiana. Ma, mi direzione mi. Allora, eh.